So che siete collegati in molti e vi voglio presentare. Mi chiamo Gianluigi Beccaria, mi occupo da una vita di lingua italiana, sia sul versante del linguaggio orale italiano popolare, sia o soprattutto sul linguaggio, sull'italiano letterario. E ho insegnato all'estero e soprattutto per tanti anni all'Università di Torino la storia della lingua italiana. Aggiungo che quel che dirò, o riuscirò a dire, comparirà online sul sito della casa editrice nei prossimi giorni. Alcune parole introduttive, voglio dire, sulla grammatica Beccaria-Pregliasco, la nostra grammatica dal titolo Parole per, sottotitolo leggere, pensare, scrivere, comunicare, che esce da Mondadori, sta per uscire, uscirà in questi giorni, da Mondadori Education. È una grammatica grammatica che ha una fisionomia individuale, ha un impianto nuovo. Ci sono delle novità accattivanti, accattivanti alcune, a parte il fatto che lo trovo, se non presumo troppo, un gioiello grafico, mi piace molto perché il risultato grafico è magnifico, insomma, mi sono già complimentato per quanto riguarda questa con redazione grafici. Ma a parte l'attrattiva esterna, che è così sobria, accattivanti. Ecco, vorrei dire due parole sulla sostanza nuova, quali sono le novità. Primo, direi, la novità è il grande spazio che è riservato alle competenze lessicali. Ci sono pagine e pagine che servono per arricchire il lessico in funzione del parlato, in funzione dello scritto. Sono, a mio avviso, notevoli, per esempio, le frequenti costellazioni, chiamiamole così, di proposte intorno a una parola concetto che trovate di capitolo in capitolo. Cioè, parole povere, si sceglie una voce, per esempio, la parola emozione, facciamo il caso di emozione, e allora si costruisce intorno un campo, si raccolgono intorno a queste, a questa parola, altre parole per parlare e degli stati d'animo e come si manifesta l'emozione e le parole per descriverla, eccetera, eccetera. Forse sarà questo anche per i dizionari a venire l'impianto appunto dei futuri dizionari, perché i dizionari non devono essere soltanto una vara in cui raccogliere appunto delle parole, ma devono articolarsi in questo senso per arricchire il parlante, per arricchire chi scrive. A proposito del lessico, in questa grammatica troverete molto spesso l'avvio preso da una voce, da un lemma del devoto Oli, del vocabolario devoto Oli, voci che sono riprodotte rapidamente commentate per mostrare come all'interno di una voce, di un lemma, ci sia sempre questa, una chiara distinzione che mette in rilievo le differenze tra le varie categorie grammaticali, e questo lo si sa, ci sono i tuoi dizionari, ma insistiamo su questo aspetto, perché è importante che un giovane appunto distingua se abbastanza è un avverbio, ma i casi in cui anche abbastanza mettiamo è c'è abbastanza pane che ricopre una funzione aggettivale in questo caso. E sempre usando il vocabolario devoto Oli, il fatto che queste voci mettono in rilievo quelle che si chiamano le marche d'uso, cioè i vari registri, il colloquiale, quando la voce formale, informale, elevata, letteraria, e in particolare per esempio quello che non si sa mai, i ragazzi non sanno, usano, non a proposito le reggenze, cioè se uso un aggettivo tipo abile, beh, allora userò abile a o abile nei, eccetera, eccetera, queste cose che sono risapute. Altra novità, la seconda novità, novità insomma, sono gli esercizi, secondo me, che sono molto svelti, insomma, a parte che sono numerosi, ma sono costruiti in modo per passare rapidamente dalla grammatica al testo, dal testo alla grammatica, cioè ora applicazione delle conoscenze, ora il riconoscere, l'analizzare, il trasformare, il completare, eccetera, poi tante mappe riepilogative ci sono in questa grammatica. Poi ci sono dei nuovissimi e numerosi box che contengono consigli per l'analisi, pieni di osservazioni e curiosità raccolte ora sotto il cartellino tra le pieghe delle parole, ora sotto il cartellino l'esperto risponde, insomma, curiosità, etimologie, storia della lingua, consigli per l'analisi, vari... La parte a cui si dà un particolare sviluppo compare nel volumetto dal titolo Comunicazione e scrittura, cioè sono delle pagine, secondo me, molto utili e nuove, che sono riservate alle nuove prove dell'esame di Stato e sono dedicate all'argomentare, cioè che è poi in fondo l'arte del persuadere, l'arte della capacità di organizzare un testo scritto, insomma, insegna i modi per evitare i testi incoerenti, lo scrivere, diciamo, a ruota libera, ecco, e i modi invece per costruire dei testi coesi e coerenti. E questi principi dell'argomentare valgono sia per la solita prova importante, chiamiamola la prova A, cioè l'analisi e interpretazione di un testo letterario, ma sia anche per gli altri tipi di prove, per la prova di tipologia, chiamiamola B, cioè analisi e produzione di un testo argomentativo, del quale occorre da parte dell'esaminando, da parte del giovane, riuscire a riconoscere, chiamiamoli, gli snodi argomentativi, e sia per la cosiddetta, per l'altra prova, la prova C, che è una riflessione critica di carattere espositivo, argomentativo, su tematiche di attualità, nella quale prova l'alunno deve anzitutto trovare un titolo al testo, ma poi riuscire a paragrafare, a suddividere in paragrafi il testo e dare ad essi un titolo. Insomma, l'argomentare che è messo nella nostra grammatica in rilievo particolare, perché è importantissimo saper cogliere quelle che si chiamano, come sapete, le inferenze, vale a dire i passaggi da una premessa a una conclusione, da A a B, eccetera, quindi molta attenzione è data ai cosiddetti connettivi, che sono veramente i tralicci importanti, i tralicci sintattici che danno coesione, coerenza al testo e gli danno anche una sua logica, cosa che molto spesso, molto spesso, ecco, manca. Dunque, dicevo che la nostra chiacchierata di oggi è dedicata soprattutto allo scrivere, perché una grammatica, che certo è fondamentale, ma non deve una grammatica soltanto mettere in primo piano ortografia, errori, ahimè, che sono, sapete che nei concorsi, quanti anche negli ultimi concorsi che hanno fatto avvocati, sono stati bocciati più per errori di ortografia che non per errori sul diritto. Dunque, la grammatica non serve soltanto per sapere se si possa o non si possa scrivere scendo il cane, di cui si è parlato tanto in questi giorni, se si debba, se si possa scrivere un po' con l'accento o invece come giusto con l'apostrofo. Quel che preoccupa di più, e credo che voi siate d'accordo, perché insomma avete una volta più di me esperienza di insegnamento, è un testo dello scrivere il collasso sintattico che sta succedendo, che è un collasso generale dello scritto e a questo bisogna porre rimedio, perché per rimediare, secondo me, occorre dedicare il maggior tempo possibile a scuola a vedere come è fatto un testo, ma non soltanto un testo giornalistico, anche un testo di scrittori di cui parleremo insieme tra breve, come è fatto a mostrare insomma che una cosa è il lessico, chiamiamolo la ciccia, ecco, ma un'altra cosa è lo scheletro, quello che tiene su in piedi, è la ciccia, il lessico, la parola, è il traliccio, è la sintassi, è l'ossatura, è il discorso fatto di questo, cioè è la logica di quello che si dice, di quello che si argomenta, è questo che oggi sta nelle prove a scuola franando, è difficile mettere rimedio, perché è un errore insomma anche di ortografia, lo insegna, l'ignoranza si combatte, non è poi così difficile, ma anche se è tremendo trovare scritto che Dante è un poeta del Settecento, o Leopardi è un poeta del Trecento, questi errori storici, ma questi si possono combattere perché li insegni, insomma, no, oppure, ma quello che è difficile insegnare è insegnare, quando si scrive, a organizzare quello che si scrive, a ordinare, a gerarchizzare le idee, a metterle una dopo l'altra con una certa conseguenzialità, insegnare a difendere una tesi e a provare che questa sta in piedi, ecco, questa connessione che sta un po', la mia esperienza di insegnante è un po' questa, perché trovo che è sempre più scarsa la capacità di sostenere una propria tesi, di discuterla e trovare dei legami, sono i legami che stanno saltando, adesso le cause, sarebbe un lungo discorso, dovrebbe fare un altro incontro, uno accusa appunto i social, l'altro, ma stanno franando in essi, anche, ecco, la punteggiatura sarà una piccola cosa, è mica tanto, perché l'andare a capo non si va più a capo, non si organizza più il periodo, la scansione, il ritmo del discorso che sta andando, quindi il maneggio della sintassi, e allora questi non sono dovuti a ignoranza, diciamo così, è qualche cosa che sta saltando, questi sono cose strutturali, e a questo occorre porre rimedio, a questo tema del collasso testuale, insomma, è molto preoccupante, se ne stanno occupando anche i neurolinguisti, di questo, di questo, ho detto che è appunto dello scrivere, avremmo parlato in questa nostra chiacchierata, perché è proprio lo scrivere più che il parlare che sta, anche se i giovani scrivono di più, perché sono sempre attaccati al cellulare, a scrivere messaggi, messaggini, si scrive di più che il passato, ma è saper scrivere che sta attraversando un momento di crisi, anche per la povertà del lessico, e per questo nella grammatica abbiamo dedicato molto spazio al lessico, ma è proprio che il fatto che io sono tra i non moltissimi sostenitori, che l'insegnamento della lingua, e in questa grammatica credo che si veda, ridotto all'insegnamento del precetto, dei precetti della sola grammatica, senza il volano della letteratura, cioè senza che si legga molto, insomma tutti noi abbiamo imparato a scrivere, non so se bene, a scrivere, insomma quanto meglio sappiamo, possiamo, leggendo molto, quindi l'insegnamento dà dei risultati secondo me apprezzabili, quando si legge molto, ricordiamoci, perché la letteratura è quella cosa che è capace a restituire alle parole la loro energia, la loro costruzione, quindi la lingua va insegnata con la grammatica, si capisce, ma va insegnata anche o a stretto contatto con la letteratura, quindi perché è inscindibile questa cosa, perché chi ha interesse per la lingua non può non avere interesse, essere attratto dalla letteratura, e chi ha interesse per la letteratura non può essere, non può che essere attratto da quegli elementi che la lettura compongono, che è la lingua, che sono le parole, quindi per questo avevo proposto per oggi il tema del mestiere di scrivere, il tenere presente sì la grammatica, ma il tenere presente e abbiamo dedicato nel nostro testo molto spazio a questo fatto, al pensiero degli scrittori su quello che fanno, su come lo fanno, quindi al mestiere di scrivere e quello che si può dire di coloro che possiamo definire operai specializzati della lingua, cioè lo scrittore è una sorta di meccanico della lingua, un operario specializzato della lingua che ama moltissimo il suo mestiere, è un mestiere che è legato al fare o in qualche cosa, insomma chi ha colto benissimo come sapete questo aspetto del fare e dello scrivere è stato Primo Levi, ricordate la chiave a stella, quei mirabili discorsi tra Fausson nel montatore di gru e Primo Levi scrittori montatore di parole, sono dei dialoghi, nel capitolo soprattutto Tiresia, bellissimi che occorrerebbe insieme, vi direi, di nuovo rileggere insieme con i ragazzi e naturalmente poi sono qui anche per rispondere alle vostre domande che mi potete fare, insomma anzi che mi dovete fare, che mi aspetto, quindi per, anzitutto insomma quando, quando si scrive la prima cosa che occorre, occorre, occorre chiedere al ragazzo secondo me è sì che ci vuole una buona competenza grammaticale, rispondo così a chi mi chiede che non bastano esercizi di scrittura, mi sta chiedendo una di voi letture grandi filippiche sugli errori di ortografia, di ortografia, ma non soltanto dicevo appunto richiedere una buona competenza grammaticale, sintattica, lessicale, ma soprattutto ecco richiedere a chi scrivere, ma anche a chi parla, una, quella che si chiama una competenza pragmatica, vale a dire quella capacità di usare quello che scrivi o quello che dici in modo appropriato alla situazione comunicativa, perché una cosa è parlare, scrivere voglio dire di un articolo di giornale che stai leggendo, che devi riassumere, una cosa è dire un qualche cosa sull'infinito di Leopardi. Secondo punto è che a proposito dell'esercizio di scrittura, non lasciarsi governare troppo dalle frasi fatte, non lasciarsi scivolare dalla bocca stampi prefabbricati, cioè date un sostantivo, l'aggettivo che deve essere sempre quello, insomma abbiamo un po' più di coraggio, non adattarsi pigramente alla frase fatta, è sempre utile leggere in classe come sapete quelle pagine di Calvino sull'antilingua, insomma anche proprio come esercizio didattico, e poi fare in modo che il ragazzo, se possibile, eviti, analizzando il lessico, ecco, sia il più concreto possibile, eviti l'ambiguità, cioè ma questo succede anche agli adulti, tutti noi siamo manovrati da, chiamiamo le parole bandiera, da parole feticcio, cioè quelle parole che noi a volte usiamo e non ci rendiamo conto che nascondono, che celano un doppio, cioè che, mi spiego meglio, che celano il contrario di sé, cioè oggi tutti parlano di radici, come parole dico tutela, difesa, sicurezza, identità, che ecco se le esaminate una per una, celano due significate, una doppia valenza, c'è un significato etico, buono, importante, definitivo, profondo, ma anche un altro intollerante, di intolleranza del diverso, quindi ecco, imparare anche, per questo dicevo prima, abbiamo molto dedicato spazio al lessico, come il linguaggio sia una cosa complicata, che cela il suo, il suo, la sua, ho una domanda che vedo che uno di voi mi sta facendo, è cosa far quindi leggere ai ragazzi di un primo biegno del liceo, un classico, cosa consiglia? Ecco, questo, ecco, questa domanda molto interessante, perché, dunque, io quando parlo di queste cose, divido sempre in maniera molto approssimata, gli scrittori in due categorie, scusatemi nel modo un po' approssimato, ma gli scrittori grassi e gli scrittori magri, cioè voglio dire che, se io penso alla prosa moderna, ma anche non la prosa moderna, la prosa del secolo scorso, per scrittori grassi intendo, ecco, tra i moderni, tra i moderni, nel novecento, Carlo Emilio Gadda, oppure Cervantes, oppure Dostoievski, cioè quegli scrittori che scrivono per accumulo, posso dire così, aggiungendo man mano dettagli particolari al primo schema, come tutti gli scrittori, questi scrittori devono andare nel loro percorso da A a B, ma in mezzo ci mettono tutto l'alfabeto, cioè, scrivono per dilatazione, sono grandi scrittori, con questo non sto dicendo, non sto dando un giudizio negativo, no, si dilatano, non scrivono per concentrazione, no, sono, c'è invece un'altra schiera di scrittori, e questi soprattutto consiglio di leggere, ma non perché siano migliori, e vogliamo mica dire che Dostoievski o Cervantes o Gadda, se non ci mancherebbe, ma quelli che usano uno stile, il cosiddetto uno stile semplice, cioè quelli più concentrati, e alludo che so io a Primo Levi, che citavo prima, Italo Calvino, quella schiera, insomma, di scrittori, ma anche di poeti, pensiamo a Ungaretti, che hanno praticato l'arte del levare, cioè l'arte dello smagrimento, dello smagrire, cioè quest'arte qui l'hanno conosciuta non soltanto i poeti, che si è pensato a Ungaretti, man mano che passavano gli anni, ecco, concentrava, ma anche i prusatori che hanno consumato, pensate a Flaubert, insomma, a una vita, a asciugare, a correggere, a togliere, a levare, a ridurre ogni obesità, ecco, per continuare questa metafora, e andare verso lo smagrimento, in maniera di sbarazzarsi dell'eccesso, degli ingombri, e questa è una virtù, è una virtù, pensate che Hemingway, lo dice lui stesso, quando scrive addio alle armi, addio alle armi, no, come scrive addio alle armi, in maniera così concisa, come le frasi brevi, così fulmine, pensate, ecco, uno scrittore che non solo va molto di moda, ma è un grandissimo scrittore, io ho letto il primo volume, adesso è già uscito il secondo, Murakami, Murakami, questo scrittore giapponese eccezionale, che racconta di come ha cominciato a scrivere, no, è uscito un libro da Inaudi che si intitola Il mestiere dello scrittore, e confessa di aver tradotto il suo primo romanzo, di averlo tradotto in inglese, che non conosceva poi così tanto, insomma non aveva, non possedeva una grande riserva di vocaboli inglesi, ma perché? Per asciugare il suo giapponese che gli sembrava troppo grasso, in fondo quello che ha fatto anche un nostro grande scrittore, Beppe Fenoglio, quando scrive il partigiano Johnny, che prima lo scrive in inglese, per poi svolgerlo in italiano, perché aveva maggior fiducia nell'inglese, che era una lingua più secca, più concisa, più magra, più astratta, invece il nostro italiano gli sembrava troppo effuso, troppo cantabile, insomma, sarebbe un lungo discorso, ma che cosa far leggere ai ragazzi? Ecco, quelli che scrivono in uno stile semplice, uno stile, per esempio, stile semplice, più secco, più magro, più laconico, poi di lì passeranno e apprezzeranno, anche se sono più difficili, beh, gadda però, ahimè, è talmente difficile che si legge di meno, ecco, oggi in scuola. Sì, dice una di voi che di solito fa leggere a Manniti, sì, anche a me piace, e a loro piace moltissimo, perché è una cosa molto concentrata, mi dice, però gli usi linguistici sono spesso quelli del parlato, pertanto poco rispettosi delle regole grammaticali, l'uso del congiuntivo che salta, ecco, no, voglio dire, ecco, certo, 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 ecco, Ammaniti è uno di quegli scrittori che è molto attento, ma non è solo, alla volta è come se viaggiasse, ma poi rielabora il tutto, con il registratore in tasca, cioè molto, come era anche Celati, come Celati, insomma, c'è tanti scrittori oggi che cercano di essere il più vicino, il più vicino possibile all'oralità, alle cadenze del parlato, è molto difficile scrivere in questo modo, quindi voglio dire, come vivacità di scrittura, certo, scrittori che vanno a Manniti, e piacciono ai giovani moltissimo, però io ho fatto un'inchiesta recentemente tra i giovani che mi ha stupito molto, ah beh, era una classe di liceo, quindi io non ho già, ma non me lo aspettavo, la loro lettura preferita, e l'ho fatta in tre classi del liceo, questa inchiesta, quindi sono troppo poche, quindi ne va a allargare, era il, diciamo, il primo levy chimico, cioè il primo levy del sistema periodico, non me lo sarei aspettato, ma perché, sarà perché lì parla anche, soprattutto, insomma, ogni c'è una grande propensione per le scienze, quindi a loro piace per un verso questa prosa non parlata, ecco, alla Manniti, cosa molto secca, molto, ma nel stesso tempo che affronta, affronta argomenti, argomenti scientifici, ma il primo levy è uno di quegli scrittori, come dicevo prima, magri, ecco, laconici, secchi, una cosa, in attesa che mi facciate, appunto, altre domande, una cosa che è molto importante nello scrivere, e, ecco, insomma, non, certo, non andare a caccia di nuvole, dire delle cose concrete, se possibile, fondate sulla realtà, sulla propria esperienza, cioè, se uno legge narrativa contemporanea, sia a Manniti, sia Primo Levi, sia Calvino, sia Gadda, questo è scrittore bravo, insomma, certamente rimarrà colpito dall'audacia degli scrittori, perché quello che colpisce quando uno legge un bravo narratore, mettiamo Melville Moby Dick, tanto per fare, proprio il primo esempio che mi viene in mente, quando dice, proprio all'inizio, fu introdotto in una stanzetta fredda come un'ostrica, che vuol dire, beh, nulla di, però, voglio dire, è già un'audacia, una metafora, una metafora in attesa, oppure, ma un altro grande scrittore, Arbasino, non so, quando fa quelli, quando ci sono, parla di Montale, parla di Stravinsky, parla di pianisti, quando parla di Clara Aschil, che è una bravissima pianista, e dice, eh, aveva quel nasetto a punta, e beccava come una gallina faraona i tasti del pianoforte, voglio dire, ecco, questi Ardini, non dico che devono scrivere così i nostri ragazzi, però sono questi ardimenti di scrittura che fanno bello anche, e poi quello che dobbiamo imparare dai grandi scrittori, Manzoni, come si sposi, insomma, la capacità che hanno, e noi dovremmo impararla, questo anche un ragazzo, i grandi scrittori di cogliere i gesti minimi che fanno i personaggi, cioè, il grande scrittore ha sempre una capacità teatrale, posso dire così, pittorica della vista, quando compare dietro quella grata famosa, dico famosa perché c'è l'incontro della Monica di Monza con Lucia, no? Un momento stupendo di, 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 tutti quei dettagli che Manzoni ci dà, un'unità di bianco, dove prevale il nero e il bianco, il bianco della benda, il nero del vestito, il riccio che esce dal, dal, dalla benda che, e quindi dalle pieghe della fronte, dalle pieghe degli occhi, che cosa fa Manzoni in quel momento lì, e secondo di noi non lo sa, non saprebbe fare così, fa un uso pittorico della lingua, cioè, descrive il carattere di quella persona attraverso i dettagli, come fa quando parla di Don Ambonio, dopo l'inizio dei promessi sposi, che, attraverso i segni e i gesti che compie Don Ambonio, viene fuori il carattere di Don Ambonio, ecco, questo non dico che appunto i nostri ragazzi devono essere Manzoni o Melville, ma è questa, è che avere un po' più di coraggio, lasciar cadere, ecco, e allora lanciarsi un po'. Ecco, un'altra domanda, vorrei proporre la lettura di testi di Severnine Zucconi, scrittori e giornalisti abituati per necessità a elaborare testi brevi e chiari, cosa ne pensa? Io ho fatto dei nomi di grandi scrittori, ma evidentemente giornalisti di grande levatura e di buona scrittura, come Severini e Zucconi, che devono elaborare rapidamente, ecco, rapidamente, perché i giornalisti non è che possono passare una vita come fa Manzoni a scrivere un romanzo, come fa Flaubert, Flaubert, il quale, come sapete, scriveva, scrive una frase, poi andava a passeggiare in un lungo viale, che si chiama, contornato da Cipressi, e che si chiama ancora oggi De Gelade, cioè De Gelade, dove lui ad alta voce, che va alla gola, ripeteva quello che aveva scritto per vedere se funzionava, voglio dire, è passata una vita a scrivere Madame Bovary, eccetera. No, dicono, non siamo, prima facevo, ma i bravi giornalisti, i bravi scrittori, che danno anche, che ci insegnano anche a usare, ecco, una sintassi più, ecco, meno elaborata, più svelta, più breve, non direi, ecco, non stare dietro a certo giornalismo che forse a volte esagera, cioè non hanno ancora cominciato a scrivere, che ci mettono il punto, che fa venire quasi l'affanno, c'è questa punteggiatura, però, ecco, ossessiva, eccessiva, ma, voglio dire, non dobbiamo più scrivere come si scriveva, non scriviamo nel 500, come scriveva Manzoni anche nel 800, questi periodi con tante subordinate, difficili anche da manovrare, oggi abbiamo bisogno di imparare anche a scrivere in maniera agile, e quindi, sì, giornalisti di elevatura come questi non sono necessari, ma utili per imparare a scrivere. Dicevo prima, in attesa che arrivi un'altra domanda, che parlavo del talento che hanno i grandi scrittori, e da qui possiamo imparare tanto, hanno un talento, posso dire prensile, ecco, posso dire plastico, torno a Primo Levi, visto che l'avevo già citato prima, insomma, poi potrei citare anche altri, c'è un dialogo molto bello che Primo Levi ha fatto con un grande fisico, Tullio Regge, e questo loro dialogo è stato pubblicato dai Naudi anni fa, e lì a un certo punto interviene in questo dialogo, Primo Levi dice, beh, io sono limitato, dice Primo Levi, perché quando devo descrivere una moneta da due lire, allora c'è una moneta da due lire, e ci riesco bene, perché a descrivere le cose concrete sono bravi, ma se invece dice, devo descrivere già qualcosa di indefinito, come per esempio un carattere umano, mi trovo più in difficoltà, mi è più difficile, ci riesco meno bene, il che, se lui dice così, ma non bisogna mai scrivere gli scrittori, non è vero niente, perché se c'è una lettura, ecco, che consiglio, è di leggere, non so se questo è un uomo, ma la tregua, è un romanzo piccaresco, stupendo, di Primo Levi, quando torna, ecco, torna a casa sua, a Torino, e tutte le peripezie, e ci sono dei personaggi incredibili, per esempio, c'è, indimenticabili, come lui descrive le persone che incontra, quando deve parlare del greco, il greco è un personaggio straordinario, è una tregua, c'è una descrizione che lo fa vedere come se fosse un rapace, i suoi occhi, eccetera, quindi questo, il saper cogliere, ecco, l'interno di un personaggio, come dicevo prima a proposito di Manzoni e la Monica dei Moni, attraverso il palpabile, attraverso il fisico, attraverso l'esterno, attraverso i tratti dell'esterno di una persona, e questo gli scrittori ce l'hanno, e questo, voglio dire, fa sempre piacere leggerlo, e si può anche, per questo dicevo, ecco, si impara molto a scrivere, leggendo, con attenzione, ecco, io ho scritto un libro dal titolo Elogio della Lentezza, che è tutto il contrario di quello che succede oggi, perché oggi bisogna andare in fretta, bisogna correre, invece la lettura, ahimè, è la letteratura, quindi, è la lingua, è la grammatica, anche, ha bisogno di lentezza, di attenzione, di non di correre, e il tempo è sempre quello che è, insomma, se anche voi avete sempre, come tutti noi, si affretta, anche nello svolgimento dei programmi, ma, purtroppo, l'oggetto che abbiamo davanti, cioè il testo, la lettura, vuole attenzione e lentezza, e questo è una virtù. Dunque, vedo altre, sono comparse altre, altre, altre domande. Beh, sì, una, dice, lei consiglierebbe oggi la lettura di un testo teatrale, beh, sì, perché, soprattutto, questo si può fare anche in gruppo, e questo piace molto ai ragazzi, insomma, no, il contesto teatrale, le battute diverse, poi quali scegliere, insomma, c'è l'imbarazzo della scelta, ma c'è un modo di lavorare insieme, di parlare insieme, di scambiarsi, poi un'altra, ecco, mi si dice, ecco, si propone, un insegnante propone spesso ai suoi alunni i racconti di Dino Buzzati, beh, Dino Buzzati è un grande, soprattutto perché stimola la fantasia, è uno scrittore come Landolfi, ecco, con questi scrittori, perché la letteratura fantastica in Italia è difficile anche sceglierla, forse, forse, ecco, Buzzati è uno di quelli, che sono, sì, sono adatti come esempio di scrittura più Buzzati di Landolfi, forse, anche perché Landolfi ha questa scrittura a volte anticheggiante, ecco, non facile, a Landolfi piace molto appunto l'arcaismo, eccetera, Buzzati come esempio di scrittura per i ragazzi delle scuole medie, se a loro piace è un ottimo, è un ottimo testo, insomma, e ne abbiamo tanti, ne abbiamo tanti, Buzzati è uno di quelli, certamente, certamente. Dunque, argomenti sullo scrivere, insomma, vedo, ecco, vedo un'altra domanda, il professore dice, la domanda, Maria Luisa Alzieri Piaggi, che era una mia cara e compianta collega, che insegnava a Bologna, insegnata da tanti anni a Bologna, ne ha scritto anche, scrisse anche un'ottima grammatica, sosteneva che il tema è l'abito di tutti i giorni. Quanto è importante far esercitare sul tema e poi passare alle tipologie di esame di Stato? Beh, le tipologie di esame di Stato, ne abbiamo già detto, insomma, servono di sviluppare soprattutto l'argomentazione, cioè l'organizzazione del testo. Il tema, e il tema è un'altra, è più libero. Io sono uno dei difensori ancora del tema, perché molti colleghi miei, anche soprattutto in passato, l'hanno osteggiato il tema, perché dicevano è un esercizio retorico, è un esercizio su cose di cui, intorno a cose di cui l'alunno non ha esperienza, l'abito di tutti i giorni. Io difendo il tema ancora, perché è un esercizio di libertà, di libertà espressiva, cioè non vuol dire il tema andare fuori tema, si capisce, non vuol dire andare fuori tema, non vuol dire, ecco, scantonare, non vuol dire cose generiche, vuol dire stare nel concreto, si capisce, ma rispetto al commento di un testo letterario, a cui sei bloccato, che anche questa è una bella prova, però, ripeto, permette di maggiori, ecco, maggiore libertà espressive, e forse è anche la prova in cui non soltanto puoi saggiare se l'alunno fa errori, lessico, di ortografia, o cose di questo genere, ma anche se non si adagia pigramente nel conformismo linguistico, nello stereotipo, nel vizio conformistico di farsi con, ecco, di farvi essere prigioniero delle parole neutre, grigie, incolore, anche lì può esercitare una sua libertà, perché poi gira gira la verità di una parola sta sempre in quella che è fuori dalla consuetudine, quella che è più, che è poi la capacità del mestiere, ma forse questo l'ho già in qualche modo detto, la capacità del mestiere dello scrittore, per esempio ci sono altre letture, che non sono di letteratura italiana, ma non mi importa, una lettura molto bella, è quella delle lettere di Tchekov, Tchekov che dava consigli su come scrivere a suo fratello, agli amici, e diceva, guarda, se vuoi un consiglio, diciamo una lettera al suo fratello, stai fuori dal luogo comune, vedrai che se devi parlare di un tramonto, se devi parlare di una notte di luna, ecco, cogli quelle robe, quello che sta succedendo di sghembo, diceva, cioè di sghembo, non direttamente, una descrizione di un tramonto, se tu cominci a dire, il solo tramontava, ma va benissimo per carità, ma va meno bene, immergendosi nelle onde scure del mare, l'orizzonte si andava riempiendo, tutte cose bellissime per carità, di colori dorati, eccetera, eccetera, oppure ecco le rondine volavano a pelo d'acqua, tutte cose poetiche, tutte cose belle, ma se tu riesci a cogliere il tramonto del sole, o il cicchio di una stella, attraverso il riflesso su un coccio di bottiglia, che è lì per te la che ti incontri, vedrai che, ecco, vedrai che, che tutto riuscirà meglio, ecco voglio dire, ma lì sono già, ecco, la finattezza di scrittori, dunque, uno di voi mi chiede, un insegnante mi chiede, professore, nell'avvicinare gli studenti al valore delle parole e del parlare, pensa che possono aiutare il cinema, o la musica, beh, altro che, altro che, cominciamo dal cinema, dal cinema, o, dicevo prima, se ricordo, sì, l'ho già detto questo, dicevo prima, che, quando si legge una poesia o un romanzo, la bellezza di questa poesia o di questo romanzo non sta tanto in quello che, nella storia in sé, nel contenuto, nella storia che quel romanzo racconta, che può anche essere un contenuto abbastanza normale, insomma, nulla di eccezionale, quello che conta è il come detto, quello che conta è il montaggio, quello che fa importante, bello, un film, non è tanto la storia in sé, perché poi le storie non sono mica più tante, gira, gira, poi sono, sono ecco, ma è come è fatto, come è montato quel film, quindi ecco, il come è fatta una poesia, il come è fatto, e questo è il linguaggio, c'entra moltissimo, e nel cinema, la musica, e vabbè, soprattutto, questo vale, l'importante della musica, è in poesia, ma anche in poesia, va da sé, voglio dire, la poesia è fatta di ritmo, è fatta di metrica, è fatta di rime, è fatta di alliterazioni, è fatta di fonie, è fatta di suoni, le parole si devono attrarre una con l'altra, non è che si debbano, ecco, quindi la musicalità della poesia è insita, il poeta ama la parola, come il pittore ama i colori, come lo scultore, e come ama il marmo, la pietra, la materia, cioè c'è un senso proprio materico, delle parole che si intrecciano, si incastrano come note musicali, una dentro l'altra, ma questo succede anche, uno non ci pensa mai, ma succede anche l'aspetto musicale, l'aspetto di esecuzione, la performance, come dicono appunto, è insiduo anche nella prova, quanti hanno fatto, facevano notare, notare a Calvino, dice guarda quando tu scrivi, sei pieno di Andecasillabi, lui non se ne accorgeva, ma c'è sempre Manzoni, quando scrive, quando scrive addio Monti, saldente dall'acqua, provate un po' a mettere quelle frasi, non come se fossero una dietro l'altra, ma una sotto l'altra, ogni blocco, mi ha fatto una poesia, così pavese, quando parla delle sue colline, ecco, se poi mettete, io ci avevo fatto la tesi, di laurea, su questi argomenti, va a vedere come appunto, la musica sia presente, quindi la metrica, in maniera inconsapevole, perché c'è anche nella prova giornalistica, a volte perché si vede che l'Andecasilla può far parte del nostro modo di scrivere, se parliamo come gli spagnoli hanno l'ottonario, noi abbiamo l'Andecasilla, perché come facciamo un metro nazionale, ecco, la musica che riempie anche la, è fatta di pausa, è fatta la prosa, quindi l'importante del cinema, che mi chiedeva, e della musica, ecco, si possono intrecciare questi discorsi, secondo me. Un'altra domanda, che mi si fa, e che leggo, è come si può far imparare l'uso corretto della punteggiatura, e soprattutto come far applicare nello scritto le regole acquisite a livello teorico. Bella domanda questa, perché in questi giorni faranno a Basilea tutto un convegno sulla punteggiatura, questo per dire l'importanza che ha il tema della punteggiatura, che è strettamente legata alle cose di cui parlavo prima, cioè l'argomentare, l'argomentare, perché ci sono due aspetti, come lei sa, chi mi ha fatto la domanda, ma mi rivolge a tutte, come sapete, ecco, ci sono due aspetti che caratterizzano la punteggiatura, un aspetto logico e un aspetto intonativo, musicale di nuovo, diciamo così, l'aspetto logico va da sé, cioè se metto una virgola, se metto un punto fermo, se metto un punto virgola, e faccio una pausa di tipo argomentativo, logico, se metto un punto, se metto una virgola, faccio anche una pausa di tipo ritmico, di tipo musicale, cioè do alla mia frase, con la punteggiatura, sottolineo un andamento particolare, un ritmo, un'intonazione, e questo, se uno, questo lo sa anche una, oggi non c'è più l'abitudine di scrivere diari, perché ci si comunica in maniera diversa, eccetera, ma un tempo, ogni eserazione, sembra di fare sempre un diario, ragazzi, ragazzi, e il diario sembra la cosa più semplice di questo mondo, ma se tu leggi, per esempio, un diario di uno scrittore, mettiamo, il mestiere di vivere di Pavese, che sono appunti suoi, eccetera, ma la punteggiatura gli dà una intonazione, gli dà un ritmo, gli dà una sospensione, gli dà degli andamenti di intonazione, è un aspetto, ecco, quindi, l'aspetto però più importante la punteggiatura è quello che dicevo prima, è come l'andare a capo, insomma, l'impalcatura argomentativa, la logica di quello che si dice, perché, tra l'altro, si possono fare quanti esempi di frasi che cambiano di significato, a seconda di dove metti la virgola e dove metti il punto. tante cose, insomma, sullo scrivere si possono dire, una cosa sulla quale non ho insistito forse abbastanza in questo, in questa chiacchierata, e lì mi posso rifare a una battuta di un fisico famosissimo, grandissimo, che ha avuto il premio Nobel, Richard Feynman, un grande, dice, ma guardate che io ho provato proprio anche sulla mia pelle che uno dei maggiori e più importanti strumenti dello scrittore, diceva Feynman, è il cestino della carta straccia, diciamo, prima dell'arte del levare, è veramente il cestino della carta straccia, cioè la lentezza, la pazienza, il buttare via, sulla brutta, ecco, cancelliamo, aggiustiamo, poi arriverà la bella, perché se uno scrive delle frasi, adesso non mi posso ricordarmi alla memoria, ma ho citato più volte Flaubert, quindi torno anche un po' sui stessi autori, quando parla di Madame Bovary, e quando scrive, ecco, parlavo prima di musica, anche di intonazione, ricomparve la primavera, dice, ebbe, essa ebbe sensazioni di saffocazione, punto, ai primi caldi, quando i peri fioriscono, cioè, cosa c'è di più semplice? Però, per arrivare a questa frase, immagino Flaubert che abbia buttato via un sacco di ridondanze, cioè, di eccessi, e questo è un po' quello che distingue, lo scrivere letterario allo scrivere corrente. Chi ha applicato proprio al massimo, al massimo, quest'arte del levare, per citare un po' e da grande, è Ungaretti. In questi giorni in cui si parla tanto di, appunto, di immigrazione, di immigrati, di gente che muore, Ungaretti scrive, più di cent'anni fa, 1916, il porto sepolto, no, il porto sepolto, che è dedicato alla morte di un suo amico arabo, Mohammed Shehab, una poesia bellissima, difendente di emiri, nomadi, suicida, perché non aveva più patria, ricordo a memoria che era di apertura del porto sepolto, poi lo va in Francia, rapidamente dice Ungaretti, prende il nome di Marcel, Marcel, ma non era francese, dice Ungaretti, e non sapeva più, vivere nella tenda dei suoi, dove ascoltava la cantilena del Corano, eccetera, ecco, perché ho citato, mi ricordo ancora a memoria, questi versi di Ungaretti, perché una cosa, il testo letterario è una cosa, quante, o cronache di giornali, o servizi televisivi vediamo su questi temi, no, oggi siamo sommersi, per fortuna, perché siamo, però è come se fossimo già anestetizzati, invece la forza che hanno, se l'ho letta molto, l'ho letta, l'ho ripetuta così a memoria, un po' molto rapidamente, ma la forza che hanno, a centinaia di anni, questi versi di Ungaretti, che parla questo amico arabo, che non si adatta a vivere in Francia, sono di una forza eccezionale, questo è dovuto appunto al verso, al ritmo, alla ponteggiatura che non c'è in questo caso, perché Ungaretti non la usava, ma vedo che ci sono molte domande ancora, io mi sono perso dietro a Ungaretti, una è come aiutare gli studenti a superare la paura del foglio bianco, bella domanda, dunque la paura del foglio bianco ce l'abbiamo tutti, c'ero io che scrivo da una vita, non sono scrittore, sono saggista, eccetera, c'era lo scrittore, perché al terrore del foglio bianco deve cominciare, poi comincia a buttarlo, a scrivere la cosa, poi a buttarlo nel cestino della carta strancia, il studente superava la paura del foglio bianco, e io torno all'idea di prima, cioè per, anzitutto vabbè, dargli non un tema e mi descriva il tramonto della luna, ecco, un tema lontano, insomma un tema che in qualche modo lo si avvicina ai suoi interessi, quindi che sappia che non debba parlare a vuoto di cose che non sa, o di cose che sa, o di cose che lo toccano, quindi se si dà un tema, una prova scritta a un ragazzo, lui si trova di fronte al foglio o un foglio bianco, ma deve parlare di cose vicino alla sua esperienza, o di cose che sa, questa paura la supererà, poi se la supera in maniera degna o indegna e lì appunto è legato anche al fatto non solo da aver studiato la grammatica che è sacrosanto o di avere davanti il vocabolario quando non sa la parola o il significato va a cercarsela, ma anche da aver letto, letto e letto, perché anche gli scrittori, i grandi scrittori non hanno mai se ci pensate bene inventato nulla, il più grande dei nostri scrittori, dei nostri lirici, Giacomo Leopardi, ma è arrivato a scrivere quel che ha scritto attraverso le sudate carte, cioè lui abitava i classici, non solo conosceva i classici, lui aveva letto, riletto, certo macerandosi, rovinandosi la salute, non vogliamo che i ragazzi si rovinino la salute, ma insomma leggendo e leggendo Omero, Omero, Virgilio, Virgilio, i grandi del passato, Dante, Petrarca, che a un certo punto erano venuti a far parte ecco, di lui, erano la sua lingua, che lui poi ha innovato, che poi lui ha scritto, quindi voglio dire ecco, leggere, rileggere, con lentezza, con l'attenzione. Buonasera a tutti.